Chiappiamolo per le orecchie, questa la frase che Sergio Staderini avrebbe pronunciato parlando probabilmente di Luca Amendola, esponente di Forza Italia e presidente di Arezzo Multiservizi, che non avrebbe rispettato i patti con Roberto Bardelli, Breda, consigliere comunale, che con l'aiuto, secondo l'accusa di Lorenzo Ruggi, avrebbe contribuito all'elezione di Amendola al vertice di Multiservizi. È una delle conversazioni riportate nel decreto di perquisizione dell'inchiesta, la seconda che scuote la politica retina ed in particolare la maggioranza di centrodestra che governa la città. Dal PC di Sergio Staderini, ex presidente Coingas, sequestrato a luglio per l'inchiesta sulla società del gas, saltano fuori i file Amendola e Breda Roberto Bardelli. Si indaga per corruzione perché secondo i PM i 200 mila euro, poi a quanto pare diventati 150, richiesti da Bardelli sotto forma di mutuo e che Amendola avrebbe caldeggiato spostando i conti della partecipata in una banca, farebbero appunto configurare questo reato. Siamo nel 2016, il consigliere comunale si lamenta di non aver ricevuto l'aiuto promesso a registrare le conversazioni tra Bardelli, Ruggi e il sindaco di Arezzo e proprio Staderini, anche lui presente. Io una domanda, bisogna che ve la faccia, dice il sindaco, rivolgendosi a Ruggi e Bardelli, ma quando uno ti dice, io il primo gennaio divento presidente di una partecipata, ti do 200 mila euro, ma non vi è venuto il dubbio che questo non era in grado di darveli? Amendola, che non compare mai con le sue dirette parole, li avrebbe convinti, dice Ruggi, che l'affare era possibile. E proprio mentre lo spiega, interviene Staderini, chiappiamolo per le orecchie, dice, e poi invece Ghinelli. Sarà evidente che lui ha inventato tutto per due anni. Qui c'è un passaggio omesso nel decreto e il sindaco dice ancora, gli dico che la situazione è a un punto, è al campo linea, quindi se c'è da smuovere questa persona, verrà messo di fronte alle sue responsabilità. Però, se avete modo di soffiarli nell'orecchio, è bene che lui onori i patti. E' a questo punto che nel decreto di perquisizione viene specificato che il sindaco appare estraneo all'accordo corruttivo perché ne avrebbe avuto notizia nel corso proprio di questa conversazione. Gli indagati stanno valutando un ricorso al Tribunale del Riesame.